Salve a tutti amici e ben trovati, sono i prossimi Terri, ed eccoci qui per l'episodio di FIFA 22, molto alleatore, sono qui con Michel Terri e adesso Fiorentina. Tanti sei un gioco che infatti non riuscirò a ricordarmi, cioè, come fa la intro in FIFA, ma siamo pronti ad iniziare la nostra avventura, siamo a gennaio, quindi in pieno mercato, abbiamo qui delle cifre assurde, per esempio Mendes 33 milioni da Sporting a Piemonte, San Maxen 60 milioni e 50 milioni per l'inglese, cifre altre ma non eccessive come ho visto molte volte, dobbiamo aspettare il finale. Comunque, il nostro comissario ha fatto accorti importanti inizio di gennaio, prendendo con il Milan secondo male, sì, e vincendo in Coppa con il Torino e con la Sampedoria. Oggi dobbiamo fare Verona, Cagliari e forse il nuovo la Coppa Italia, sì, contro il Milan. Ha ricevuto una volta e ho paeggiato, è stato molto difficile, ma ci proveremo. E non c'è il ritorno? Non è, come non è la Coppa Italia, cioè, se il finale siamo, vediamo un po', se vuoi vedere dove siamo con la Coppa Italia, dove siamo arrivati, siamo ai quarti. In teoria l'obiettivo è stato raggiunto. Ma andare più avanti, sicuramente è interessante, anche perché vedo che c'è Lazio-Spezio, se non c'è il capitolo-Spezio siamo molto fortunati, la Lazio è meglio di Napoli-Roma o Prima di Montecalcio-Inter, visto che Napoli e Juve iniziano un po' bagatelle. Bagatelle sono delle squadre forti e quindi sono pericolose. Però vediamo un po' cosa fare. Se vediamo appunto l'obiettivo, Comunque l'ha fatto, quindi qua non c'è niente. Qua è stato tutto fatto, perfetto. L'Europa Conference League, ma vincerela sarà difficile. E la Champions League, più vendere delle giocate dei giovani per 3 milioni, siamo conto 8%, rimane un anno. Vengono di farcela. Sì, potremmo farcela, perché ancora c'è il mercato, pensavo di essere passato al mercato. Quindi potremmo vendere qualche giovane, allora, qualche giovane, prospettiva, e spiegare i nuovi eventi, per chi no, chi potremmo vendere? Coin, se no. Mi sembra di vendere qualche giovane magari della primavera, quindi non so, un Braga potremmo vendere per fare soldi, che Braga avrà il suo mercato. Diamo un po' le finanze. E vale 2 milioni. No, vale 800 mila euro. Non serve male. Ho un Adams, che è in prestito. Bell, vale 125 milioni. Chi potremmo vendere un mega botte, fare tutti i soldi, e che non mi servirebbe? Cameron Diaz, non penso. Magari lui probabilmente ha trasferdito, ok. Montiere è in prestito, perché a me è qui. Armada, Cagliere, online. Forse un attaccante, ci vogliono vedere. Tipo un Colt, già faremmo... Anzi, Malday faremmo già 2 milioni. Malday lo vorrei provare. Colt, forse se l'ho messo in vendita. No, transfer. Quasi, quasi. L'ho probabilmente come transfer lì, se vediamo un po' di Venue, se sei solo in prestito. E anche Rodriguez. Chi ho il 55. Non lo hanno. Transfer. Lo so, perdete il giove, ma alla fine non ho tante niente da poter spendere, perché non farò l'altra stagione lunghissima a seguito il giovane. Cioè, siamo pronti? Ok, se non siamo pronti. Vado a via quel paese. Comunque, siamo pronti a spedere il Verona. Siamo quinti. Tre punti dall'Inter e da Roma. E sete da Milan e penso più di calcio. Sesto, quindi Napoli il primo. C'è una classifica, a meno, un po' più realistica. Perché è di Napoli, Milano, Roma, Inter. Per il calcio, per il calcio e Lazio. È una cosa un po' più normale. Di Sassuolo, Torino. Tutto il rispetto di queste squadre. Però, ripeto, è un po' strano. Ok, è una squadra che ogni anno fa bene. Però essere di Sassuolo primo mi sembra un po' eccessivo. Vedendo come è Sassuolo, uno è pareggiato. Un rigore sbagliato. Mentre le squadre ci asfaltavano. Allora, un po' di come ci devo fare. Mirei, in cui ci mettiamo i buon Phil Collins. Qua ci mettiamo uno Scully and Bone. Lasciamo Martini e Squarta. Quarta, che che re, ci mettiamo un Castruvilli selvatico. E a posto di chiesa, ci mettevo Maina. Quindi, stiamo un po' ora alla panchina. Questa lo lasciamo, che re, possiamo anche portarlo via. Ci mettiamo un bel Zurkowski che sta crescendo bene. Sono andando di tanto. E qui ci riportiamo un caiono così di bilaghi. Potremmo fare stendo. E va bene così, ragazzi. Siamo pronti ad affrontare. Potremmo l'altro non ne vorrei. Van der Venne, non penso io quest'anno. Penso di sì. Perché è giovane, non mi ricordo, 21 anni. Vabbè, andiamo a notare il vero, ragazzi. Andiamo. Andiamo anche loro stanchi. Andiamo un po' se riusciamo a fare. Se ci fanno ancora soffrire, oppure no. Intanto mi ricordo che abbiamo il gioco affixato, quei valori, se potete vedere. Cercate le pensi precedenti. Abbassando un po' la velocità, il tiro, il passaggio. Limitandoli un po' della CPU. Perché la parte è peggiore. Perché le difficoltà siamo già 6 su 7 e va più che bene. Mai tirano. Fai mai un po' di più a più in velocità. E ci siamo troppo alta. Ma eccoci qui, stiamo entrando. Tantiamo l'inno che è come se è il 2-3 come il right. E andiamo a affrontare il Verona. Ciao, sparte benissimo in mezzo al 3. Se ne va. Vado a Valovic. Che vuole la palla a Valovic. Ci arriva, ci arriva, ci arriva. C'è Key, non ci può fermare. Valovic entra in aria. Prove tutto per tutto. Poi c'è dietro per Almada. E' l'1-0. E visto come la gente ha fatto tutto per tutto per marci. Anche rischi di farci male. Ma Almada. Se ne va così. Con l'ottima di Valovic. E' un'ottima azione. Ok, 1-0. Di sto un po' aperta. Il gioco che è anche molto peccato in questo gioco è che a volte le scuole sono troppo catenacciate. E' troppo chiuso di fare tutte in unici che non si può passare neanche. Un po' di giro per struttura. Qui posso fare il contropiede. Va bene. Però, ma sotto è davvero impossibile. E' rai, c'è scali. Perché è così alto. E' stai coerire all'uomo. Per un momento. Well, 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 fermo. E' verità. E' qua c'è solo la goal. Guardate, guardate, guardate. C'è, quando avete detto che è così a caso proprio, vuol dire che il gioco vuole farti fare goal. E' tutto un bel passaggio, è un profumo. Ok. C'è, Maina fa un mira passo a due. Sono bellissimi, bambini. Guarda, quando hai fatto il gioco, i gioco vuole fare il gol. Le fatti gocce. Guarda qui Maina che libera. Ma qual'è che è liberato? Tu li batti nella schiena, ma letto. Accitarsi, non bene. In mezzo, in mezzo, in mezzo, è così. Va bene, 1-1. Va bene, va bene, va bene. Illy, poi da Fana. Poi da Maina. No, ma porca c'è, che rinempe lui. raga sempre cecchierini motinello totte oggi gregoire de fredda mi gioco in pista clement l'anglais ha completato il suo passo si regalasse un grandissimo colpo avevo smessi male ma che c'è fuori gioco grande qui colli se lo dire non va bene non va bene troppo alti non riesce a coprire lui sta fuori giu zurkowski e oggi l'armada è proprio inesistente mettiamo ok so qui a questo posto e premiamo così oggi l'armada è proprio fatto di gomma oltre a questo niente blocce è desolato ho da chiesa ho da chiesa troppo lunga va bene così chiesa al centro il caffè è fofana vabbè parru fa il miracolo c'è guarda davanti al portiere gli fa il passaggio va che si fa vado a giocare vado a terra impossibile che sono tutti chiusi guarda qui ancora in due c'è un lì il portiere difesa a vestiti perfetti a volte la parla sempre ora guarda è tu ancora niente il portiere niente non libera nessuno ma è te la Maina fate che è meglio va si sempre palla all'oro va oh incredibile la palla va sempre all'oro su di impalli è impressionante ci metto Maina qui lui era lì ma se stotto fa passare la palla chi re varia è da partita grazie grande gioco grande gioco si sta pallone a Verona fortissima la cosa bella veramente guardate il gol di cioè il gol di c'è che ne è bellissimo proprio qui guardiamo Maina colpisce sta palletta perfetta lui che si gira fa gol mentre il gol di De Vrel bellissimo bellissimo messi male quello tira male ma il portiere fa il bello è che le nostre azioni non c'è neanche una patta è questa di Pandur ma di altri non c'era è fatto altre azioni con Vovic no niente non c'era niente solo loro l'altro sentite di noi otto tiri e noi c'era solo il gol e la patta mostra di Pandur 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 ovviamente c'è Verona pareggio non mi ha per non c'è c'è direttore pareggio vanno male però veramente non giocavo non mi mancava mi mancava a calcio ma non in questo modo si Verona fu venire di noi ma quando mai solo il gioco viene di noi altro che il Verona ma beva va bene no non ho avuto la pressione anzi mancava c'è ma non c'è non c'è terribile gli autori che sono scomparsi ma che è successo gli autori non lo so sembra quasi drogati grazie ancora per la sua orriguez e orriguez vai vai non fammi mentire si si bravi tutti bravi siete guarda quel paio momentua transfer e si appunto di accettere 8 milioni dai la roma se colpo si vendica ma si accettiamo ma vai vai melero ma che si ma di melero e allora avanziamo e basta con Bilaghi basta semparo il gran alla stavolta no non valo drogne Bilaghi le rompe del mescolo su Bilaghi si fissano su Cettio 3 e non gli altri che voglio vendere eh Zurskowski Zurskowski ne risciutiamo se è un buon aventura Zurskowski rimane anzi posso togliere la squadra siamo ora settimi erano lì erano lì ora siamo settimi punto venduto vediamo ok poi c'è il Milan in coppa che ci fa i bozzi come si dice a Roma 6 milioni sono entrati va bene io ho sentito la seconda squadra però non chiesa lì dove è upper camp siamo upper camp procederà cui non quarta ma rasmussen non ragazzo fa la riserva castrovilli ma chiesa ma non chiesa cosa circola ma perché c'è l'armada ah perché non c'è buon aventura bello chiesa come ha fatto questa squadra così zorkovski e castrovilli va bene sempre chiesa qui upper camp qui dove c'erano campisti dammi fofana che fu lui calato tutti insieme non si dice come mai ho calati tutti dei miglioratori e vander vanno 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 si salva è messa bene ok e andiamo sì qua a simularla non che parlo in conferenza perché tanti sono per rispondelli e se sbaglio la risposta la squadra questa sarà tutta euforica comunque la sapentina è alta e bassa lo dò è che anche sono al massimo fortissime poi momento tu io su come la sinua con la sinua perché penso anche la coppita che è importante puoi provarci arriviamo nel semifinale che nel semifinale è quello tutto aperto vediamo un po' che si sta ammazzolando va bene Kruger freddi dai sai che non sei il niputo dai su lo dò è che dove è cambiato sottile sì ok bravo carino ma non mi dà quello che voglio non intero esterno esterno velocità e comunque sullo strumento veloce poi le cose attività fa il suo ma non più tanto ok che è una mistero però perché gioca Anasvili il suo salmato Gantano Castrovilli ma tutto ce l'ho visto se devo comprare perché se non gli boschi Castrovilli e Spell che vedo me lo fa no è cacchere un gioco ci vuole un giovane quindi questo divivo un gioco un piste che fa crescere come creare un gioco che mi ha scusate non è mercato intaccato basta un po' che è un po' alto ma combattuto devo dire pochi tirini due parti dai con il contropiede ragazzi Kaijono che fa il papà dove tolare Kaijono si vabbè dalle che ci sta altre partite no no ma che parate si vuole si vabbè Kaijono è là ad accorso a palda oh soltanto facciamo due camet o qualche attaccante si trova una richiesta non lo so ma è ciò che dovrebbe forte sì invece è sottita Kaijono non sono sui scarsi e io magari un po' sta cadendo però continuano isolare sarebbe lì che succede ci offrono un gol no ma non so se la giocano mi ha voglia di rischiare me lo so che perderò è affa della fessa mamma non posso simulare ragazzi ho battuto il bergamo calcio e noi cadiamo sempre di più sempre di più c'è perdere con i Kaijeli che succede il manager perché 93 penso sia calato però non mi ci tenere calma come se si è fatto qualcosa che abbiamo fatto anche un nuovo obiettivo no così vediamo quando si sallenano quelli riserve e poi giochiamo kruger no poi napoli reject lo want to buy col cavolo dai voglio che non si tocca neanche sparare e allora e pure rege 37 milioni ma no in liz va vedete come le squadre inglesi sono tutte ricchissime tutte 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 sono ricche lì anche la più scarsa o quella che è più classifica ha i suoi 20 30 milioni va bene martedì ad debut e chi lo sa e gli diamo 20.000 euro di bonus alla signa alla firma ingresso un insulto ma che credi di essere un insulto e da dove va a saltare ragazzi se noi andiamo a affrontare il mila vogliamo fare il mercato dopo allora con il mila totali ok non simuliamo non sbagliamo e poi dobbiamo fare un po' di cambi upper camp rastroviri siamo tutti stanchi dove è buonaventura che non ha giocavo ah siamo andati buonaventura giusto siamo andati e già c'è il voto lì giuscoschio mettiamo bell non lo sa per forza cosa di upper camp ci sarebbe io abbiamo cameron mettiamo kruger vandeben non a posto diciamo freschissimo come una rosa e bilaghi lascia il posto a bonan che ha fatto anche per lo dire a che volta scorda freschissima i cambi li avremmo molto è un socio campista ma dobbiamo fare di necessità virtù e andiamo ad affrontare il mila che sono qui in stagna mi trovo a gabby però turè messo come esterno alto e tedesco basso io ho fatto al contrario però c'è merison c'è cramage insomma la scuola è sempre molto pericolosa vediamo un po' di ciò combattere il milan metto al lato del gioco pericoloso appena compratto perfetto per noi ho preso per noi sono preso io ci vediamo il sismo ragazzi c'è stato quindi vedenti e ci vediamo questa partita già lo siamo sale bravi bravo io vado all'arismo ma io li ho dà anche che è male grande basta quattro tipos vanno fare un volo e qua c'è il gol mi sa che si guarda un bel dipensore ne sono stanco da questo parte che fa si va in là qua giù qua su grande chi è andata che ne va non lo può fare no vanno anche vlau 1-0 ragazzi calma che gioco di chiesa che giocatore che bel giocatore mamma che numero che fa su te guarda qui come sei andato come sei andato che scatto questo effetto il 31 non è che è peggio ma il 31 c'è una pista che non conosce guarda una zelena vediamo un po' se ci fanno uno scherzetto di un gioco che si incapponesce a farci voleva che fare ah pobeg grande pobeg non mi dà niente che scelta ma te ho visto sparire ma che succede che roviglio voglio sparire qua munisce qua dietro qua espulsione cosa espulsione guarda sicuramente che qua dietro frustrazione io ho visto poi va munizione non mi ha il gamba sola pure vabbè il gioco deve riuscire così sbuttalo se ti ricordi sui giorni un minuto per andare a dole ora grande con Siles abito no la e su un minuto la e su va bene infatti a me di recupero sono sempre un in più sempre sono sempre un in più comunque mi sono bene abbiamo meditato di vincere alla fine che mi sono giocato bene infatti qualche stagio di leader non potrebbe che si sono sbagli fai banali l'azio battere spesso ovviamente l'Inter batte il primo 3 calcio Roma batte il Napoli Fremdi batte Mina e Lazio quindi ora c'è l'Inter che prese anzi il primo 3 calcio è inzata il campionato così come Napoli che già quelle è partita ci verranno ora e non c'è anche per me eh sì con un graduation penso che è impossibile che tutto sia possibile quindi magari ora può esserci sono tempi di differente storie e prima di stavolta entrambi i tempi non possiamo fare un po' buono e sono tempi morti e vedrai che il gioco si è fatto sentire però eh sì sono stati bravi in pratica 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 dovunque era c'è barico accanto amici del cuore va bene non c'è l'udinese conference renting addirittura siamo migliorati grazie 20 milioni inviata così come ventina inter ventina mamma mia 500 mila euro ammazza che gentilezza ma che gentilezza ragazzi pensare a quello dove poter pigliare io farò anche un po' di pulizia che sono giovedì mentre troppo vecchi non li vorrei io vorrei più giovane la frentina o al grande colpo è fortissimo anche se all'età un po' più avanti 30-20 anni posso accertare oppure giovani la frentina è questa deve fare non siamo una grande squadra che è puntaggio dei forti o anche diciamo in realtà però non tanto forti che 78 sì buoni però comunque siamo qui l'episodio di oggi siamo mistervolmente noni ora c'è come cambia questo campionato ovviamente bastano due partite sconfitte già siamo noni il 4% sta a 5 punti dell'Inter e c'è Lazio a 4 e 2 abbiamo calcio un indinese e Piemonte calcio molto stretti a parte i primi che voano cioè Napoli può fare 6 punti Napoli è proprio un'arrivabile c'è lo scritto quest'anno dell'Orendis ma gli altri sono tutti e l'hanno salutato comunque vi lascia un like a commentare e dite la vostra se l'abbate fatto iscrivetevi al canale e a telecampanellina c'è le notifiche nei video che usciranno e vi consiglio su Twitch dove fai live e sui social come Facebook Instagram e cosa 100 milioni di cosi me e TikTok così per essere di più su un lavoro goderevi altri contenuti utili da me offretti noi ci vediamo prossimi episodio andiamo a smitte ripasso e chiudo un po' Grazie per la visione